Scaldate i motori per una produzione Activision! Allacciate le cinture per un'altra creazione di Pinox! Benvenuti in questo video del solito 95, siamo su CTR NITERFULED, eccoci qua, entriamo dentro, diciamo solo fare l'arcade locale perché è una cosa che c'è rimasta da fare, gara singola, però stavolta le piste principali le abbiamo finite, delle aree nazionali beach, valle delle gemme, rovine perdute, aree del pacco di ghiacciai, area cittadella, fatte nei suoi episodi, quindi se non l'avete vista è andata a vedere, è tutto in playlist, ora faremo Crash Nito Kart, fatteremo con le gare di Crash Nito Kart, quindi adesso faremo questa e faremo quelle tutte in fila, se intanto so dove sono, quindi... quello è solo, ok, lo so, lo so, si, so dove sono, quindi posso farvelo, isola, prima infernale, prima gara, non so quanto riuscirò a registrare oggi, oggi sarebbe dovuto esserci la live, solo che la live si è interrotta, quindi non continuare la live e non rifare una giorni possibili, vabbè, tre giri, va bene, giocatori uno, conferma, vai, andiamo, ok, va bene, andiamo avanti, non so se registravi tutto bene, perché magari qualcosa è venuto saltato via, ma magari nel senso che lo voglio, nel senso che è successo, ok, allora la cassa speciale dovrebbe stare lì sotto, qua dovrebbe stare, eccola lì, ok, presa, perfetto, ora possiamo andare avanti, dopo questa registrazione vedrò da quando ha registrato, perché magari mi è saltato un pezzo, quindi voi non avete visto l'intro iniziale, per questo motivo, spostati sulla corsia lenta, per favore, ok, no, mi ha preso la cassa, maledetto, prenditi un missile, terzo, dai che arriviamo primi, la cassa l'ho presa, quindi sono a posto, dove va la cassa un po' meglio, comunque, va, la prendo io la cassa, ormai che l'ho presa io, se no, dipendeva lui, era finito, oh, bravo, è presa la cassa nei GNT, Spiro, che fine fai? Eh, mi sa che Spiro, Spiro esplode, no, non è esploso, però ho colpito io, quindi, ok, attenzione a questo, e, quello è esploso, e, prendi le mele perché mi salvano, adesso siamo full, ma, voglio avere un po' di mele perché non so se le mele danno più, oh, la maschera da primo, la maschera da primo, incredibile, non so se mi dà delle monete, delle monete in più, va bene, 2,23, 2,23, 44, va bene, 7 secondi meglio di Spiro, ok, va bene, andiamo alla prossima, il compenso di funzione, mi dà poche monete, 36 monete mi dà, eh, monete Wumpa, eh, non so se riesco a farmare tante monete, comunque, cambia livello, va bene, prossimo è ballo della giungla, faremo questo, altrimenti faremo 4 gare in questi episodi, i prossimi episodi farò altre 4 gare, quindi, adesso, vedremo, vedremo di fare ballo della giungla, ok, va bene, qua non dovrebbe essere difficile prendere la cassa speciale, la cassa segreta, che prima non è tanto segreta, ma, eh, noi la dobbiamo andare a prendere, quindi, la prenderemo, ballo della giungla, prima è Isabella, o è Tauna prima, prima è Tauna forse, è Tauna, è Tauna, allora, la cassa dovrebbe stare qua, da queste parti, no, forse è più avanti, forse è più avanti, dovrebbe stare qua, aspetta, eh, devo trovare, devo trovare la cassa speciale, perché non ricordo dove sta, qua, no, non sta qua, ah, è là, la vedo, è qua, qua, eccola qua, presa, fatemi contrarci l'ho presa perché non vorrei mai averla dimenticata, se non c'è più, quindi l'abbiamo presa, ok, ora dobbiamo solo arrivare prima, eh, va bene, Tauna è davanti che ha un vantaggio, adesso la dobbiamo recuperare, ok, la cassa non la trovavo, non capivo dove era, quindi, ha fatto un casino, però, ci siamo, ci siamo, un'altra maschera, spiace per te, ma, ha quella maschera, quindi, ok, colpiamo tutti perché la cassa mai, ci manca solo Tauna, è davanti, Tauna, va indietro, Tauna, buona Tauna, ok, la cassa toia, se non la conoscesse, questa è la cassa toia, oh, ha dato alcun distacco, vai, vinta, magari nelle coppe speciali mi metto difficile, perché almeno lì te le giochiamo bene, dovrei provarlo, effettivamente farò un po' di episodi, finché non vinciamo, quindi adesso vedremo, e di fare cose, proprio adesso siamo in facile, perché le cassa sopitali richiedono tempo, quindi, le cassa segrete, quindi devo fare un pezzo alla volta, cambio livello! Go livello! Go livello! Grazie per la visione!